La seconda esperienza dell'esposizione Siamo anche noi un po' così nuovi, però è una bella esperienza, anche se è difficile ritrovarsi qui insieme con tutte queste persone, però è bello perché ci sono tutti questi gatti, è bello sapere i loro caratteri, il loro standard, la differenza di tutti gli animali, di tutti questi bei gatti che ci sono qua. E poi per ognuno di noi il nostro gatto è il più bello ovviamente, comunque va dalla gara, la gara e poi insomma la gara così per dire. Ecco, certamente ci vuole descrivere un attimo le particolarità di questa razza? Allora, io non sono l'elevatrice quindi non conosco bene lo standard con precisione, però lui è un Peterbold, è un gatto che ama la famiglia, che ama i bambini, è proprio un gatto da famiglia. Cioè lui è un gatto che vuole stare in collo, che ti monta in braccio, che vuole essere accarezzato e proprio ama il contatto fisico, quindi per chi cerca il gatto appiccicoso lui è perfetto. Insomma, quindi ha un bellissimo carattere per chi ama questi tipi di gatto. È un po' un gatto cane, tra virgolette, ci segue molto, è molto intelligente, riconosce le nostre voci, i nostri ritmi, ma tutto quello che è ormai della sua famiglia, per lui è tutto. È vero, Royal? La giornata odierna, con i giudizi, come sta procedendo? Bene, per ora abbiamo passato un giudizio, adesso ne aspettiamo un secondo, se riusciamo a capirci perché io e lui siamo un po' imbranati, però alla fine ci arriviamo un po', ci divertiamo un po'. Poi è stracoccolato, abbiamo mangiato un sacco di chicchi, vero Royal? E quindi per lui questo è, penso sia, anche se c'è un po' di paura perché la sta tremando, come giustamente sono emozionata anch'io, figuriamoci lui, però insomma ci piace questa cosa, poi impariamo perché insomma è la prima vera esperienza. L'altra esperienza l'abbiamo fatta con l'allevatrice, quindi non ero sola, oggi sono proprio da sola e quindi nulla, questo è, grazie. Bene, un in bocca al lupo per l'evento.